Voi sorridete qualunque cosa accada Il street workout come potete vedere è un allenamento all'aperto dove utilizziamo tutto quello che troviamo all'interno della città In silent a noi piace andare in giro dove c'è traffico dove c'è turismo nelle piazze a cercare anche angoli non scoperti della città In silent perché? Perché abbiamo queste cuffie che hanno tre canali dove le persone possono ascoltare musica e l'istruttore In silent anche con i lunapop, ve lo dimostrò io adesso Prima volta che lo faccio in assoluto, bellissima, proprio fantastica tutti insieme, la carica degli insegnanti, la musica e vivere una cosa tutti insieme è molto bello Madonna non ho una besta domenica già, una besta mi porterà, mi porterà Sto ascoltando una musica bellissima, ogni coach sceglie la sua e comunque tutte danno una meravigliosa carica per affrontare questa esperienza davvero meravigliosa Di farlo in giro è bellissimo, è una cosa particolare, nuova, farlo tutti insieme e la musica ti dà la carica Ogni volta è diverso, un percorso diverso, un'emozione diversa Dunque senti tutto però non disturbi nessuno, ci guardano un attivino, qualcuno ci ha anche filmato Grazie 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 Grazie.